Pacchino è arrestato un violentatore seriale e aveva concubito due donne in un solo giorno. I polizietti di Pacchino hanno eseguito un ordine di cancellazione messo dal tribunale di Siracusa nei confronti di un tunisino di 29 anni responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti di due donne commesso a Pacchino lo scorso ottobre. Agente della Polizia di Stato del commissariato di Pacchino sono intervenuti per la richiesta di una giovane donna che riferiva di essere stata vittima di attenzioni da parte di un ragazzo straniero che aveva tentato un contatto fisico. Nel corso dell'intervento un'altra donna si è avvicinata ai poliziotti dichiarando che un soggetto dalle stesse caratteristiche l'aveva fermata in strada e buttata in terra provando a denutarla per consumare un rapporto sessuale. Solo grazie all'intervento di un passante che metteva in fuga l'aggressore la vittima riusciva a liberarsi dalla presa. Grazie alle descrizioni e ai riscontri di polizia giudiziaria il giovane nordafricano è stato poco dopo rintracciato a Palagonia e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e accompagnato presso la casa circondareale di Cavadonna.